Ci vogliono creatività e fantasia, ma anche tecniche ed esperienza per realizzare gli espositori in cartone, prodotti che devono essere belli da vedere, stabili e pratici da usare. La grafica esposti, le aziende della mia famiglia, si occupa proprio di questo e lo fa con passione e competenza da ormai 15 anni. La storia della nostra cartotecnica affonda lontano le sue radici. È il 1979 quando mio padre Giovanni dà via questa avventura con uno studio che si occupa di fotografia pubblicitaria e fotolito. Dal 2001 siamo entrati in azienda io e mio fratello Stefano, riconvertendo l'attività alla realizzazione di strutture P.O.P. in cartotecnica che potessero rappresentare un plus comunicativo per i nostri clienti. Abbiamo creato strutture di ogni forma e per le più svariate tipologie di punti vendita e taglia commerciale, facendo il possibile per rimanere sempre un passo avanti al mercato. Cuore dell'azienda è l'ufficio tecnico, dove tramite i nostri progetti consigliamo e guidiamo i clienti in ogni scelta. Coniughiamo la creatività con aspetti come solidità, economicità e semplicità di montaggio. I nostri programmi di progettazione avanzati consentono di visualizzare sul monitor le varie idee in 3D. Grazie al plotter in digitale forniamo in tempi rapidi i campioni in dimensioni reali. L'esigenza del cliente è per noi prioritaria e la personalizzazione e la realizzazione di quanto è da lui ricercato è la nostra missione quotidiana. Oggi Grafic Esposti è un'azienda leader scelta da marchi importanti in Italia e nel mondo per la qualità, capacità innovativa, servizio e cura del cliente.